Il sindacato USB chiede risposta in merito al reddito di cittadinanza in Abruzzo e al potenziamento dei centri per l'impiego. Conferenza stampa sotto l'assessorato regionale al lavoro a Pescara. Si è aperta la fase 2 per gli oltre 14.000 destinatari del reddito di cittadinanza in Abruzzo, spiega l'USB, con le convocazioni ai centri per l'impiego dei beneficiari. Ma con le gravi carenze di personale in tutte le province abruzzese ci chiediamo come sarà fattivamente possibile affrontare una mole così grande di beneficiari da seguire nella ricerca di un lavoro. Siamo con Tommaso Danchini che è ex dipendente del centro per l'impiego. Oggi si giunge alla fase 2 del reddito di cittadinanza, c'è questa conferenza ad l'USB proprio davanti al centro per l'impiego di Pescara. Quali sono le motivazioni e le vostre richieste? Noi avevamo aperto con l'assessore e con il consigliere Marco Vecchio un tavolo di confronto proprio perché da anni ribadiamo la necessità di un reintegro della nostra esperienza. Noi abbiamo lavorato una media di 10 anni nei centri per l'impiego, cambiando anche uffici, cambiando amministrazioni, facendo più selezioni. E quindi l'elemento centrale è non perdere questa esperienza anche perché i centri attualmente sono oberati, è vero sono entrati i navigator, si apre però questa seconda fase dove saranno chiamati i percettori del reddito di cittadinanza. Si presume quindi che oltre al normale lavoro che faccia il centro per l'impiego aumenti appunto l'esposizione del personale che è per lo più in prepensionamento e comunque oberato di lavoro. E quindi torniamo a chiedere di riaprire questo tavolo di confronto e sollecitiamo il bando per far sì che con il riconoscimento dell'esperienza o comunque con questo nuovo bando possiamo almeno provare a rientrare attraverso una nuova selezione.